salve a tutte e a tutti e proseguiamo con i video comparativi tra il fang shui tradizionale e fang shui moderno e popolare oggi vi voglio parlare di una tematica fondamentale che è quello dell'uso dei colori quando parliamo di uso dei colori nel fang shui più moderno più popolare cosa leggiamo spesso sei nel settore fuoco allora metti un'informazione fuoco sei nel settore legno allora metti un'informazione legno questo ve l'avevo già accennato nel video che parlava dei degli sci dei canifu che spiegava come molto spesso nel fang shui popolare si leggia inserisci un cane fu nella direzione metallo scegliendo un cane fu di metallo ad esempio ma dove sta l'errore in questo caso quando noi parliamo di colore di cosa stiamo parlando il colore è uno stimolo visivo è un'onda elettromagnetica che crea all'interno del nostro corpo determinate reazioni spontanee e universali a meno che le stesse non siano mediate da dei traumi infantili ad esempio pensiamo un bambino che magari da piccolo si è perso in un bosco avrà qualche problema potrebbe avere qualche problema a relazionarsi con un'informazione di tipo legno legata alla vegetazione al verde ma in linea di massima se chiunque si espone al legno avrà determinate informazioni che sono quelle di saluta di crescita e di cambiamento anche nel fang shui moderno cosa leggiamo quindi utilizza un colore nel settore corrispondente ma questo è una grave imprecisione in che senso volendo noi possiamo chiaramente utilizzare un settore un colore nel settore corrispondente perché ragione perché comunque si tratterà di un'informazione di tipo armonica con la direzione tuttavia nel fang shui tradizionale la relazione col colore non si basa esclusivamente su un posizionamento ma sullo studio della relazione tra la funzione di un determinato ambiente e la direzione dello stesso ad esempio se io parlo di bagno avrò una funzione di tipo acqua legata alla pulizia al cambiamento allo scarico se questo bagno fosse a sud io avrò un informazione di tipo acqua funzione di tipo acqua inserita in una direzione di tipo fuoco cosa dovrò fare quindi sicuramente non inserire altra informazione fuoco ma andare a inserire una mediazione cos'è una mediazione la mediazione rappresenta una informazione energetica intermedia tra altre due informazioni ad esempio se io l'acqua e ho il fuoco l'informazione di mediazione sarà il legno quindi non è corretto dire posiziona l'informazione di un determinato colore in un determinato settore bensì bisogna dire inserisci l'informazione adeguata a creare un'armonizzazione tra la funzione di una determinata stanza e la direzione di quella determinata stanza facciamo altri esempi se io ho una camera da letto a nord io avrò la funzione tipica della camera da letto terra rivolta però in un settore acqua quindi nuovamente noteremo secondo ricordiamo sempre il ciclo del wujing è importantissimo conoscere wujing perché alla base della comprensione di tutte le dinamiche di tutte le indicazioni che ci dà il fang shui perché il wujing cos'è se non il ciclo naturale delle cose quindi nel caso io in cui ho una stanza terra di funzione terra inserita in un settore di funzione di direzione acqua cercherò una mediazione nel metallo in quel caso perché l'informazione intermedia tra la terra e l'acqua quindi potrei inserire in quel tipo di stanze delle informazioni metallo come i colori grigi delle eventuali finiture lucide senza mai esagerare e l'uso anche ad esempio di complementi in metallo come potrebbe essere ad esempio un argento o evitare magari l'oro se parliamo di settori nord perché l'oro dentro di sé porta un'informazione molto forte anche di fuoco in realtà è l'unico colore che ha dentro di sé il fuoco e il metallo che sarebbero in scontro ma che sono perfettamente rappresentati da questo tipo di materiale e quindi non inseriamo un'altra informazione che potrebbe risultare in scontro con la direzione un'altra situazione simile potremmo ad esempio trovarla in una cucina ad ovest quindi dove la funzione tipica del cucinare il fuoco va a scontrarsi con la direzione che è l'ovest il metallo e dovrà andare in cerca di una mediazione che in questo caso troverà nella terra quindi nei marroni nei nocciola in tutti i colori caldi che trasmottano anche un'informazione di benessere di abbondanza quindi mi raccomando per distinguere al volo del fang shui tradizionale da un fang shui popolare possiamo prestare attenzione alle indicazioni che vengono date per i vari settori per le varie direzioni quindi per concludere fate attenzione quando inserite un'informazione di colore in un determinato settore in una determinata direzione non è giusto non è mai assolutamente giusto che inserire il colore che rappresenta una certa informazione energetica in una certa stanza sia corretto a prescindere dobbiamo sempre analizzare proprio il confronto tra la funzione e la direzione se andate sul mio blog domoteorica.it slash approfondimenti potete trovare anche un articolo dedicato proprio all'uso dei colori in casa nel quale vi propongo degli esempi per analizzare bene quali sono le funzioni comuni all'interno della direzione e quali potrebbero essere le scelte di abbinamenti combinazioni cromatiche da utilizzare in una determinata stanza a seconda della sua direzione di affaccio quindi del suo posizionamento all'interno della planimetria di un'abitazione e ci vediamo la prossima settimana con un altro video in cui parleremo delle forme nel territorio e che differenza c'è tra come l'analizza la scuola tradizionale e cosa fanno quel poco che fanno nel fang shui moderno visto che come avevo già detto spesso non viene presa correttamente in considerazione la spazialità esterna il territorio nel quale un edificio è inserito grazie 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 grazie